Chi ancora usa il termine mezza stagione rischia di essere considerato non soltanto antico, ma davvero fuori tempo con il tempo atmosferico, e scusate il gioco di parole. Aprile è per sua stessa natura degno successore di marzo, mese pazzerello sempre secondo i vecchi proverbi, che in questo 2021 si è soprattutto caratterizzato per siccità ed elevate temperature, al punto che nella seconda metà del mese precedente a quello attuale, a Bolzano si era toccato il valore massimo a quota 29, quello stesso capoluogo altoatesino in cui tra lunedì 12 e martedì 13 aprile è scesa la neve. Rafiche fortissime di Bora a Trieste fino a quasi 100 km all'ora e pioggia incessante tra pianura e litorale Veneto e Triveneto sono stati gli ingredienti di questo secondo fine settimana più l'inizio della successiva nel quarto mese di questo benedetto ancora in tempi di Covid-19 2021. Colpo di coda dell'inverno si diceva un tempo, anche se i colpi finora sono stati più di uno, perché la colonnina di Mercurio ha già conosciuto oscillazioni spaventose con sbalzi anche di 10-12 gradi nell'arco di 24 ore tra fine marzo e inizio aprile, per cui con il Covid-19 ancora in giro a colpire dura, come detto, bisogna ulteriormente tutelare la salute grazie all'impiego delle mascherine che, secondo gli esperti, quest'inverno ci avrebbero protetto rispetto alla sindrome influenzale più comunemente diffusa e, per così dire, rimpianta. Niente sarà come prima, potremmo concludere, abusando di un'altra espressione ormai divenuta di uso comune, quindi il mondo che ci si prospetta sorridendo a mercoledì 14 aprile con il ritorno del sole risulta decisamente più luminoso, auspicando non solo l'imminente definitivo arrivo della bella stagione, ma anche la graduale uscita da un'emergenza sanitaria esasperatamente prolungata che il vaccino, prima o poi varianti permettendo, dovrebbe contribuire a distinguere.